Una decisione che era nell'aria, adesso è ufficiale, il Consiglio Nazionale degli Alpini ha deciso di rinviare all'anno prossimo la 93esima donata generale, quella che si sarebbe dovuta svolgere proprio quest'anno a maggio fra Rimini e San Marino. Dicevamo, una decisione che era nell'aria, di questa ufficialità e dei nuovi progetti, dei programmi futuri del Corpo Nazionale degli Alpini, ce ne parla il Presidente Sebastiano Favero. Sì, purtroppo abbiamo dovuto prendere a malincuore questa decisione, il rischio di qualche focolaio poteva esserci e noi come alpini che siamo impegnati fin dall'inizio di questa pandemia e anche oggi con le vaccinazioni, non volevamo certamente essere il veicolo di una ripresa della pandemia stessa. Abbiamo pensato che era molto più opportuno spostare tutto e far slittare tutto di un anno, conseguentemente anche tutte le grandi manifestazioni della nostra associazione slitteranno di un anno. Il 2021 per quanto ci riguarda le manifestazioni storiche, importanti come l'Ortigara, come per noi il Grappa e il Tomba, come l'Adamello, saranno manifestazioni strettamente contenute in termini di numero, ma come l'abbiamo fatto nel 2020, una piccola rappresentanza sarà su questi appuntamenti perché sono per noi gli appuntamenti fondamentali.